Preghiera del mattino Gesù, noi siamo tutti figli di Dio. Facci sentire la vicinanza del Padre in modo tale da vedere in ogni uomo e in ogni donna i nostri fratelli. Le leggi fredde e rigide possono velare questo rapporto di carità con gli altri. Dacci un cuore di carne e distruggi quello di pietra in modo da essere sempre uniti a coloro che ne hanno bisogno. Amen. Veni, Sant'Espiritu. Grazie.